Cagli il pennello! Questo era lo spettacolo! Di Super Fight Roba! Ok ragazzi siamo arrivati in palestra, pronti per l'allenamento e Mattia oggi dovrà fare con 4-5 olandesi forti, forti, forti e farà turno quindi praticamente salirà uno, poi l'altro, poi l'altro, poi l'altro e sono tutti campioni a livelli altissimi quindi è tosta oggi. E' il challenge l'officiale! Signori, Mattia Faraoni! Si informa anche della possibilità che possano avere in atto patologie cardiovascolari acute, del rischio anche di morte e nonostante ciò è categorico nel rifiutare il ricopro a quel punto ho chiamato il mio team di Blasi e pure l'equipe medica dell'organizzazione mi ha detto Mattia non possiamo correre questo rischio, non ci prendiamo una responsabilità legale e poi non possiamo rischiare qualsiasi cosa io stasera purtroppo non combatto è la prima volta in vita mia che mi succede purtroppo è stata una cosa che è andata oltre la mia possibilità di scegliere di stringere i denti, ho combattuto con un tendine rotto, con un gomito rotto ma questo va oltre è l'esame che ci fa vedere questo cuore come va durante l'attività fisica che simbola quindi anche l'attività diciamo sportiva agonistica quando lui sta facendo attività quello che è successo non è dipeso dal cuore quindi questo non è sicuramente dipeso dal cuore non ho nessun problema al cuore la cosa più importante via una vai facciamo dei lavori di recettività per attività oggi il lavoro soffro sì verde sì giusto sì lavoro di forza continuo e anche se oggi abbiamo fatto meno la componente di intensità la forza mi tocca vai 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 le braccia aumentata una cifra vai i gambo ho sempre sentito forte Mattia cioè le braccia durissime diretti ok grazie gancio sinistro cosa ho dato stronzo che ho visto ho visto un po' di vita tanti tira alti forti no ma poi ti ho occhio pure non sai che c'è che è buono che è l'unico mancino a sto peso no no poi è sull'anguessa tonda dei giorni come stile bello grande poi ho fatto la scorsa settimana venerdì sabato con Alex benissimo domenica recupero lunedì pao e bello esplosivi nonostante il volume di intensità elevato poi martedì ho fatto il metodo di giovedì ho fatto un lavoro senza cercare troppo di morire stavo bene psicologicamente stavo che già avevo dato non mannava di esagerare ieri lo sparring era più una serie fammi male di dolori che poi oggi bene quindi ormai ci siamo ormai ci siamo allora abbiamo tre stazioni due alternate dal punto di vista di prestazione una specifica con milo l'altra di spostamenti e poi la stazione sull'impegno cognitivo è quando si chiude il periodo delle due stazioni combinate due uno vai bravo sto bene sto bene la preparazione sta andando veramente al top ormai manca lo scarico che comunque è già iniziato no? però penso che questa potrebbe essere una dell'ultimo forse l'ultimo la penultima in cui vado sotto fatica così volontariamente poi ormai basta mantenimento proprio uno che è fatto è fatto al peso Charles Joyner 94 e 70 peso fatto andiamo da lato opposto signori Mattia faremo da l'es da l'es fra da l'es 94 e 30 da l'es da l'es da l'es Vincere e finirlo. Non starò più a svelare il mio gameplay, però vedo che è abbastanza alto, quindi potrebbe essere una sua forza, ma anche una sua debolezza. Vedo che spesso sta con la guardia bassa e io voglio ricordare che io con i calci li ho abbastanza in alto. Dai, yeah! Dai, yeah! Brava! Lascia se male! Regà, stiamo a casa di Mattia, mancano 5 ore al match e adesso andiamo a vedere come sta. Caro, schioppali, morti! Lo sai che è successo? Non sei pronti a risultato? Oggi ti voglio capirmelo. Io ne ho capito che si è fermata la macchina a Minghella. Dio, questo ha le notizie. Tell me why and nothing are a speedy. Ma come ti sei fermata la macchina? Di nuovo. Alla grande. Oh, salva tutti! Io perché ho visto Simone capirare. Mi schiaffo sul culo. Mi sto andando a preparare. Questi sono i pantaloncini. Guarda, guarda, guarda i passi. Allora, Simone. Sempre la solita foto mi mettono. Beh, io, mio fratello Alessia, tutti quelli foto, attenzione. Guarda Michele. Michele cameraman. E poi faccio sempre così, ma inizia a vedere. E poi me lascio vicino a Natale quelli più top. Quelli che tutti non sono usati. Quindi... Ma dai, su nero, nero. Carpelli, Christmas. Ragazzi, buongiorno. Guarda, come il Christmas vesti qua. Cioè, io riguardo cento volte nascere e cento volte dito. Cioè, incredibile. Cos'è? Quello sul vomito, sul vomito. Quella è india, quella è india. È bella. Troppa scuola? Scuola retta. Per me sei bella. Poi io. Io devo portare il paralenti, la pellicola io devo portare, i nastri. Ha bisogno di chiudere e passe, diciamo. È riconoscibile. Ciao, vado. Sei bravo? Vado a status. Vado a status. Qualcuno ti portiamo la cintura più tardi. Dai, torniamo a casa con la cintura, amore. Spengi le luci. A poco le spengono da sole. Ricorda di usare la testa, non strafare, fai il tuo, ti sei allenato bene e basta. Non pensare a quello che potresti fare, ma fai quello che sai fare. Certo, amore. Punto. Da chi ti via? No, qui. Ci vediamo dopo. Mi raccomando. Ciao, Simo. Tu c'è Italia. Mi raccomando. Fa me sapere qualsiasi cosa. Guarda l'anno. No, io. Sei l'anno dopo, mi dai, l'anno. Amiche. No, vale, grazie. Oggi ragazzi combatte un fratello, il match più importante della sua vita, il titolo mondiale. A prescindere da tutto, per me è e resterà sempre un vincente, soprattutto come uomo e oggi ovviamente mi auguro che lo sarà anche sul ring, come già lo è stato tante volte. Guarda, a parte il maestro. Guarda, il grande Alessandro. Questi voi li facciamo anche il trattamento. È una bomba, gambe depilate. Sì. Ah, per la storia. Non l'ho mai visto, lo sai? Mazzano. No, no, cioè, è il match. Il match mi depilo. Io, quando il sole fa così, vediamo un attimo che fa. Secondo me, lui ricorda tutto, cioè così, non è davanti a me. Non è scambiato, cioè sia a distanza tua, sì, però dentro esco e mi sposto. Qua, sto per la destra. È la base di questo match. Spostamenti, uscite, non dagli mai il punto del periodo. Cioè, se dobbiamo ricordare che Matti, gira, usa Jeff, gira, finisci i round così. Magari manca solo un minuto, non so, mancava bene. Gira, devi recuperare. Cioè, l'obiettivo è recuperare. No, recuperare il conteggio scazzottato, ma recuperare girando e basta. Prima di qua, non c'è, dai, scendete. Quindi, diciamo. Lo vediamo un attimo, è un po' comunque un avversario tipico, mancino alto. Quindi, vediamo il lavoro sui suoi attacchi, partiamo morbidi, tanto sono cinque ripresi. E vediamo quello che succede. Poi, tanto un po' di, un po' di arzionale da dire al fuori ce l'ho. Però, ovviamente, come dicono loro, non li sa. Cioè, non far vedere tutto il repertorio all'inizio. Calizzante, subito. Che tu c'è l'anzacco, c'è tante armi, tanti quello. Ragazzi. Ci siamo, stiamo vicini al match. Mancheranno un'ora, un'ora e mezza. La tensione si inizia a far sentire, siamo già carichi mentalmente. E speriamo bene. Tutta l'energia positiva che abbiamo, adesso siamo tutti concentrati per il focus. Per Mattia, la tensione è veramente tanta, tanta, tanta. Speriamo bene. Posso. Morbidi. Sì, sì. Vediamo. Più tanto partirei fra, fa pressione con questo modo. Però poi vedo che fa pressione, perché fanno, lo so, perché a metà di distanza le braccia non ce l'ha. Non ce l'ha. Non boxa, capito? Tutti i colpi simili. Poi, porfa, un po' sticarciucco. Ci fai, però non mi simbolo, è un esplosivissimo. Almeno dal video, vuoi? Dai. Poi, ah, ci riparti sicuro, eh? Ci riparti... A mezza, a mezza. 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 A mezza, a mezza, a mezza. A mezza, a mezza, a mezza. A mezza, a mezza. A mezza, a mezza. Abbiamo pure i grandi Franz. Per partire subito con tutta la roba. Ok, abbiamo ripetuto, non spero. Certo. Poi, abbiamo ripetuto, non spero. Per partire subito con tutta la roba. 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!